Longin la Grand Classic, un simbolo di eleganza L'orologio da polso la Grand Classic rappresenta un'icona di eleganza senza tempo nell'universo dell'alta orologeria. La Grand Classic è stata lanciata con l'obiettivo di incarnare l'eleganza intramontabile e l'artigianato esemplare. Fin dalla sua introduzione sul mercato, ha catturato l'attenzione degli amanti dell'orologeria con il suo design raffinato e l'attenzione ai dettagli. Ogni orologio la Grand Classic è frutto di una lunga tradizione di maestri orologiai che uniscono abilità artigianali di alto livello con tecnologie all'avanguardia. Il design di la Grand Classic è caratterizzato da linee pulite e curve armoniose, che riflettono l'estetica senza tempo dell'orologeria classica. La cassa sottile si adatta perfettamente al polso, offrendo un comfort straordinario. Il quadrante, spesso ornato da indici delicati e lancette sottili, è un esempio di leggibilità impeccabile. Questo equilibrio tra estetica affascinante e funzionalità pratica fa di la Grand Classic un compagno ideale per ogni occasione, sia formale che informale. L'attrattiva di la Grand Classic si riflette nell'attenzione che riceve da parte di celebrità e personalità influenti. La Grand Classic ha raggiunto un livello di prestigio che va oltre l'estetica. Molti modelli presentano innovazioni tecniche, come l'utilizzo di materiali avanzati e meccanismi di precisione, che dimostrano l'impegno del marchio per l'eccellenza orologera. Nel corso degli anni, l'orologio ha ottenuto riconoscimenti per il suo design e la sua maestria artigianale, confermando il suo status di icona nel mondo dell'orologeria di lusso. In conclusione, la Grand Classic non è semplicemente un orologio da polso, ma un capolavoro di eleganza e raffinatezza. La sua storia affascinante, il design iconico e le caratteristiche innovative lo rendono un simbolo di prestigio senza tempo. Indossare un orologio la Grand Classic non è solo una scelta di stile, ma anche un tributo alla tradizione orologera di alto livello. Con la sua storia ricca, il design affascinante e l'impegno verso l'eccezionalità, la Grand Classic continua a brillare come un gioiello senza tempo nell'universo dell'alta orologeria. Scegliere un orologio la Grand Classic è abbracciare l'eredità dell'arte orologiaia e l'essenza dell'eleganza senza tempo.